La pandemia ha avuto degli effetti negativi, ha tratti devastanti anche sul meccanismo che regola le adozioni internazionali, in particolare per quanto riguarda ovviamente il tema della salute e del rapporto tra gli stati. Tuttavia abbiamo rilevato intanto un impegno caso per caso, bambino e bambino che è stato seguito, accompagnato insieme alle famiglie, la CAI insieme agli enti autorizzati ha facilitato il percorso di rientro di tutte le famiglie e quindi la buona notizia è che nonostante questa dimensione di tragedia che ha colpito tutta la società a livello internazionale, le adozioni internazionali non si sono interrotte. L'altro elemento altrettanto significativo è che abbiamo rilevato comunque un desiderio rivolto all'adozione internazionale, è vero che i casi sono diminuiti, quel trend che colpisce la denatalità nel nostro paese, quindi la difficoltà di aprirsi ad una scelta di genitorialità, si affianca anche sul tema dei dati e sulle adozioni internazionali. È per questo che come CAI e come governo stiamo lavorando in modo concreto e specifico. Il Family Act prevede sostegni anche per le famiglie adottive, l'assegno unico universale, già l'assegno temporaneo è rivolto a tutte le bambini e bambini, quindi in particolare anche ai bambini che sono adottati, anche nell'ambito di adozioni internazionali, ma poi servono delle azioni specifiche. Le azioni specifiche vanno per esempio nell'ottica di un aumento significativo delle risorse che destiniamo come rimborso alle famiglie. Abbiamo in due anni pressoché raddoppiato le risorse destinate fino ad arrivare a 9.000 euro di contributi.